La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori non è solo un obbligo di legge, ma una necessità per ogni azienda, che deve essere gestita con facilità ed efficacia. Tuttavia, le aziende incontrano spesso difficoltà legate alle procedure interne di autorizzazione agli acquisti, da ripetere ogni volta e per importi molto contenuti. Per semplificare il procedimento di iscrizione, Vega Formazione ha introdotto la soluzione degli ordini a scalare, ossia un ordine di acquisto con un importo massimo predefinito, che dà accesso a tutto il vasto catalogo delle attività formative disponibili sul sito di Vega Formazione. Con l'ordine a scalare, il responsabile della formazione può procedere immediatamente, in base alle effettive necessità all'iscrizione al corso di interesse, scalando il valore dell'acquisto dal limite massimo di spesa, definito nell'ordine a scalare. Inoltre, grazie alla semplificazione gestionale, Vega Formazione riserva specifici sconti agli acquisti effettuati per mezzo degli ordini a scalare. Un'opportunità da cogliere per semplificare la gestione degli acquisti e per risparmiare.